E neanche la donna, anche se i vostri di credo hanno molto sorriso. Ma, ma, signore, ma non c'era niente di simile nel mio sorriso. Beh, allora perché hai riso quando ho detto l'uomo non è in canto per me? Diciamo che ho sorriso perché pensavo che gli attori che mi stanno venendo a farvi visita troveranno una gran bella quaresima. Attori? Quali attori? Erano i tradici della città, quelli che un tempo vi piacevano tanto. Bonsignore, Bonsignore, ho una grandissima notizia per voi. Sono, sono i maticità degli attori. Una compagnia per voi. Buonasera, è qui giunta, direttamente, per voi. Non regnero in tecnici, a meglio, ma che dica più meglio i compagni che ci hanno dovuto stare. Anche per poter fare i padanti più esigenti. Prefere i mei a pari, a voi cincarino, a voi cincarino, a voi cincarino. Porgasera, porgasera. Porgasera. Parisa, proie. Ah, ascolta amico, domani sera potreste recitare per la corte una scena di mie invenzione? Certo, monsignor. Molto bene, molto bene. Grazie.